messaggio della santissima vergine maria alla sua amata figlia luce de maria 10 maggio 2020 amati figli del mio cuore immacolato amato popolo di dio vi benedico con il mio cuore vi benedico col mio amore rimanete sulla vera via sulla via che vi porterà la vita eterna state avanzando passo dopo passo facendovi guidare dalla stoltezza senza tenere conto degli appelli di mio figlio e dei miei che in questo modo la croce si fa più pesante amati figli del mio cuore immacolato non deviate dagli insegnamenti di mio figlio dovete stare molto attenti e disposti all'obbedienza mio figlio vi conduce al cammino della volontà divina per farvi superare gli ostacoli che vi siete forgiati da soli e che vi impediscono di vedere la chiarezza la quale vi porterebbe l'obbedienza tenete presente che dovete dire sì sì oppure no no e non dovete essere tiepidi dovete rimanere sulla retta via sulla quale non esistono invidie né rivalità che sono gli anelli di quelle catene che vi impediscono di guardare oltre ma dove mio figlio vuole portarvi dovete riconoscere le vostre debolezze personali perché sono queste ultime che vi fanno disprezzare le grazie delle quali mio figlio sta munendo le anime figli crescete in questo momento non cadete nell'ostinazione affinché non ne abbiate a passare attraverso il dolore che piega la creatura umana fino a portarla alla docilità sono talmente tanti gli interessi che ruotano intorno al popolo di mio figlio che questi stessi interessi vi porteranno a soffrire in modo eccessivo per questo vi chiedo di non dimenticare le mie richieste riparate pregate mio figlio con cuore sincero assetato nell'amore divino non dimenticatevi della sofferenza della quale siete avviati siate umili ma non disperate voi avete la certezza della protezione divina mio figlio vi ame talmente tanto che invierà il suo angelo di pace perché vi sostenga nei momenti di maggiore confusione regate figli pregate sarete sorpresi da una notizia che farà tremare il popolo di mio figlio ma non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento invece continuate obbedire al vero magistero della chiesa di mio figlio al quale siete stati e siete chiamati pregate i figli miei la terra continuerà a tremare pregate per il giappone pregate per la california pregate per il messico pregate per il cile pregate figli miei pregate per gli stati uniti il fuoco renderà più duro il momento pregate figli miei pregate con amore preparatevi per questo 13 di maggio non dimenticandovi che dovete consacrarvi al mio cuore popolato come se fosse la vostra ultima consacrazione pregate figli miei pregate con amore preparatevi per questo 13 maggio non dimenticatevi che dovete consacrarvi al mio cuore popolato come se fosse la vostra ultima consacrazione è giusto ripeterlo due volte io proteggo ciascuno dei miei figli li metto sotto la mia protezione di salvo li libero grazie alla loro continua costanza di essere figli fedeli mio figlio rimanete in allerta non trascurate il cammino spirituale non fatevi prendere dalla paura per le mie avvertenze abbiate paura di perdere l'anno chi si con chi si consacrerà al mio cuore immacolato e rimarrà fedele a mio figlio poterà la grazia della mia protezione non temete non ci sono forse qui io che sono vostra madre vi benedico vi amo mi siete molto cari mamma maria ave maria purissima concepita senza peccato cliccando poi sul link troverete tutte le rivelazioni sul sull'angelo di pace commento di luce de maria fratelli nostra madre ci protegge in ogni momento la protezione materna che ci promette quella grazia che tutti abbiamo sperato di ottenere cosicché perseveriamo e continuiamo ad essere fedeli a suo figlio santissimo non trascuriamo questo appello in cui la nostra madre ci chiede un combattimento radicale un cambiamento radicale nel nostro comportamento nel nostro modo di agire soprattutto un cambiamento che deve avvenire noi intere interiormente diamo la mano a nostra madre procediamo fiduciosi assieme a lei all'incontro con suo figlio a me consagrazione al cuore immacolato di maria santissima io alter mi affido o madre alla tua protezione e alla tua guida non voglio camminare da solo in mezzo alla tempesta di questo mondo mi presento davanti a te mani vuote madre madre divino amore con il cuore colmo di amore di speranza nella tua intercessione ti prego di insegnarmi ad amare la santissima trinità con il tuo stesso amore così che non sia indifferente loro pelli né indifferente l'umanità prendi la mia mente il mio pensiero la mia parte cosciente inconsciente il mio cuore i miei desideri le mie aspettative e unifica il mio essere alla volontà trinitaria come lo facesti tu di modo che la parola di tuo figlio non cada su un terreno arido madre unito la chiesa corpo mistico di cristo sanguinante disprezzato in questo momento di oscurità e devo a te la mia voce sopplicante affinché la discordia tra gli uomini e i popoli sia nichilita dal tuo amore paterno madre santissima oggi ti consacro solenemente tutta la mia vita fin dalla mia nascita facendo pieno uso della mia libertà rifiuto il demonio e le sue macchinazioni e mi affido il tuo cuore immacolato prendimi per mano fin da questo momento e nell'ora della mia morte presentami davanti al tuo divino figlio permetti madre di bontà che questa mia consagrazione sia portata per mano degli angeli ad ogni cuore affinché si ripeta all'infinito in ogni essere umano amen in nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen